Grazie a tutti. Grazie a tutti. La morte sarebbe stata giusta, ma non era il momento. Sì, sei sopravvissuto. E da quel giorno la speranza vive nel tuo cuore. Hai riportato la speranza in questi regni dopo molto tempo. Vaso o non vaso, Kratos, speranza, paura, amore e odio esistono in ognuno di noi. Sì, la vera domanda è quale emozione lascerai che guidi le tue azioni. Ogni scelta che facciamo plasma il nostro mondo. Ciò che dici è vero. E? Credo di essere pronto a varcare quella porta. Ottimo. Oh no. Cosa posso dirti? Ricordo che cosa ho provato sedendomi su quel trono. Cosa implicava e cosa invece no. Un dio della guerra, un dio del dolore, della sofferenza, della distruzione. Le norme dissero che cercavo una redenzione che so di non poter meritare. Questo cosa mi rende? Dio dei folli. Un dio di... Speranza... Quando tutto è perduto. Tu... Hai perso... Tutto... E tutti... E sei diventato... Nessuno ti perdonerà. Hai scelto. Ho scelto. Ho scelto. Prendere. Proclamare. Comandare. Mettermi a servizio. Servizio. Dovrei... Dovrei... Perdere tutto e tutti. Ci sarà rimasto abbastanza in me per non diventare come te. Non lo so. Però io lo spero. Tu sei crudele, arrogante ed egoista. Ma... Ma tu sei più di questo. Tu sei sempre stato più di quello che vedono gli altri. Tu sei... Tu sei più di questo. La missione. La missione. Tu sei sempre. La missione. La missione. La missione. Beh, mi sono perso tutto. Trovato quello che cercavi? Bene, fratello. Qui abbiamo finito, quindi... Che facciamo ora? Ora? Credo che... resterò seduto qui per un po'. Orsi... Non ci sono un pochaccio. È solo benedì. Ben fatto, generale. Non avevo alcun dubbio che ce l'avresti fatta. Congratulazione. Spero che il Valhalla ti abbia dato ciò che cercavi. Guarda un po' chi ritorna dal cancello principale. Deve essere successo qualcosa lì dentro. Lo prendo come un buon seg... Verrò con te. Proverò a essere ciò di cui ha bisogno la gente. Bene. Mi fa piacere sentirlo. E che tu abbia trovato ciò che ti serviva qui. Non ce l'avrei mai fatto senza i miei amici. Vi sono grato. Il Valhalla è a tua disposizione, Kratos. Se vuoi riflettere su altro, ora o più tardi, saremo liete di aiutarti.